Cari figli, con materno amore vengo ad aiutarvi ad avere più amore, il che significa più fede. Vengo ad aiutarvi a vivere con amore le parole di mio figlio, in modo che il mondo sia diverso. Per questo raduno voi, apostoli del mio amore, attorno a me. Guardatemi col cuore, parlatemi come ad una madre dei vostri dolori, delle vostre sofferenze, delle vostre gioie. Chiedete che preghi mio figlio per voi. Mio figlio è clemente e giusto. Il mio cuore materno desidererebbe che anche voi foste così. Il mio cuore materno desidererebbe che voi, apostoli del mio amore, parlaste con la vostra vita di mio figlio e di me a tutti coloro che sono attorno a voi, in modo che il mondo sia diverso, in modo che ritornino la semplicità e la purezza, in modo che ritornino la fede e la speranza. Perciò, figli miei, pregate, pregate, pregate col cuore, pregate con amore, pregate con le buone opere, pregate perché tutti conoscano mio figlio, che il mondo cambi, che il mondo si salvi. Non giudicate, ma amatevi gli uni gli altri affinché il mio cuore possa trionfare. Vi ringrazio.